Bene, salve a tutti ragazzi! Un velocissimo update che volevo fare per mostrarvi un attimo quello che sta facendo Neo. Ne avevo parlato proprio ieri in un video che ho pubblicato su YouTube, vi invito ad andarlo a vedere. E ieri che cosa... guardate, ieri eravamo qua, all'incirca a questo livello qui, e vi avevo parlato appunto di questa esplosione che ci dava la possibilità di pensare ad un possibile ABCD pattern, quindi un pattern di prosecuzione del trend, no? E mi ero segnato che cosa? Se andare a rivedere il video ve lo faccio vedere velocemente quello che avevo fatto ieri. Mi ero segnato l'inversione di Fibonacci per andare a capire dove poteva arrivare il secondo impulso, e mi ero segnato quest'area qua rossa, dicendo che c'erano due soglie di attenzione, due livelli di attenzione di Fibonacci, il 141,4 e il 161,8, inoltre c'era questa linea tratteggiata viola che era una struttura del prezzo che aveva agito in passato come supporto e come resistenza. Quindi diciamo che c'era quest'area molto interessante, che cadeva su una struttura molto interessante, che faceva presupporre nel caso di prosecuzione del trend rialzista di Nio, che ha avuto questa esplosione, ragazzi, ci ha fatto l'80% in 5 giornate, bene, c'era la possibilità che il prezzo potesse arrivare qua. Stamattina apro il grafico, che cosa vedo? Boom, guardate qua che bello. Ha esattamente fatto quello che l'analisi tecnica, diciamo, ci aveva confermato, no? E quindi impulso, ritracciamento, impulso, addirittura il prezzo era riuscito a, vedete come ha sentito questa struttura, ha provato a rompere e ha rotto in realtà i 33 dollari, ma poi è tornato indietro, adesso siamo in una fase di ritracciamento, andiamola a vedere, a misurare questo ritracciamento, guardiamo un po' dal livello di Fibonacci, con i livelli di Fibonacci, dove sta arrivando. Bene, vedete che questo ritracciamento si è, ha rotto il livello 38,2, si è appoggiato sul livello 50, quindi in quest'area qui, e il prezzo adesso sembra stia proseguendo, quindi potrebbe proseguire questo impulso al rialzo, e scusatemi, non volevo disegnare, volevo copiare e incollare questa linea, CTRL-C, CTRL-V, per capire dove adesso potrebbe arrivare ancora il prezzo. Allora, guardate, il prezzo potrebbe continuare adesso al rialzo, l'ipotesi ovviamente è sempre quella di una prosecuzione di questa esplosione che abbiamo visto su NIO, e ragazzi parlerò di NIO in maniera molto dettagliata in un prossimo video, quindi vi dirò che cosa penso di NIO, per quale motivo è una valuta, una criptovaluta, che potrebbe darci ancora tante soddisfazioni, quindi state, rimanete aggiornati, provo a pubblicarla già in giornata, magari in serata, questo video. E adesso quello che ci possiamo aspettare è che il prezzo, vedete, se facesse un impulso simile a questi due, perché questi sono praticamente due impulsi speculari, vedete infatti che questa linea qui, vedete che il prezzo praticamente ha avuto la stessa profondità di impulso, andiamo a vedere un po' con Fibonacci tracciandoci di nuovo l'inversione dove potrebbe arrivare il nuovo impulso, e Fibonacci quindi inversione dallo swing low allo swing high, andiamo di, oh guardate che bello, di nuovo il livello, guardate come il livello 161,8, il livello 161,8 ragazzi è un livello particolare, perché fa parte del golden ratio di Fibonacci, quindi è un livello che di massima attenzione per quanto riguarda le mie regole, guardate un po' dove casca, cos'è questa seconda linea tratteggiata, è di nuovo una struttura del passato di prezzo, e di nuovo cade su una soglia psicologica di prezzo a 40 dollari, quindi quello che potremo vedere è una prosecuzione, come al solito io mi segno la mia, diciamo, area mentale in cui il prezzo può arrivare, che in realtà è tra il livello 127 e il livello 161,8, prima di vedere una flessione fisiologica, un ritracciamento, però ragazzi volevo vedere, con questo video volevo fare un aggiornamento e farvi vedere come molti pensano che l'utilizzo di Fibonacci sia campato in aria, sia più magia che altro, e invece no ragazzi, è matematica, è matematica e i mercati seguono questa armonia di movimento e questa matematica di movimento, e questi livelli su cui si appoggiano, non è affatto magia, sono semplicemente delle caratteristiche intrinseche dei mercati, poi ovviamente come dico sempre sul mercato delle criptovalute, sul mercato di una criptovaluta come Nio, che ha insomma volumi molto molto sottili, pensare di poter applicare l'analisi tecnica è assolutamente secondo me sbagliato e fuorviante, però mi piace pensare che dal punto di vista fondamentale Nio è una valuta che, ragazzi non è un consiglio finanziario, è un'opinione di Marco Casario, quindi fate le vostre ricerche, sappiate bene che gli investimenti in criptovalute sono soggetti ad altissimo rischio, quindi non vi sto assolutamente dicendo di comprare Nio, ma vi sto dicendo di fare le ricerche e vi sto dando la mia opinione, interessante vedere come dal punto di vista fondamentale Nio rimanga una valuta, una criptovaluta interessante, e si stia anche, abbiamo una conferma dal punto di vista dell'analisi tecnica, della price action, dello studio di price action, ecco vorrei prendeste questo studio di analisi tecnica, Fibonacci Trading in questo caso, proprio come un esercizio didattico, per cercare una conferma sul movimento della price action, ma che è una conferma di un'analisi fondamentale che è stata fatta, e oggi dai ragazzi vi faccio un video sull'analisi fondamentale di Nio, come si vanno a cercare informazioni su una criptovaluta, per determinare se questa criptovaluta è robusta, è solida, c'è un progetto interessante dietro, fatemi sapere se un video di questo tipo vi interessa, se il video di oggi vi è piaciuto mettetemi un like, come al solito, e io adesso torno a fare le mie mille mila cose, grazie mille per l'attenzione, lasciatemi un commento e ditemi come la pensate, anche voi su Nio sono molto curioso di sapere la vostra, ragazzi cominciamo a parlare, a usare questo canale per creare una comunità, del resto siamo tutti quanti interessati, chi è a livelli professionali, chi è a livelli amatoriali, chi è a livelli di soli interessi da questa materia, perché non parlarne in questo canale, o anche sul canale Facebook, potete aggiungermi sulla mia pagina Facebook, che si chiama Marco Casario del 10 Minute Trader, lì pubblico questi video e pubblico anche altre idee di trading, insomma, ragazzi, parliamo, il trading è un'attività estremamente solitaria, perché siete voi contro lo schermo, perché non parlarne con altri e condividere il proprio sapere, le proprie idee, anche i propri sbagli, perché dagli sbagli si impara, io lo dico sempre, nel trading è perdendo i soldi che si impara, si capisce come andare avanti e come lavorare meglio, ragazzi, grazie mille per l'attenzione, noi ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao!